L'Aquila aspetta una rappresentanza in giunta regionale, torna a ribadirlo il capogruppo del PDL Gianfranco Giuliante, soprattutto alla luce del terremoto e dell'esito delle ultime provinciali che hanno aumentato la presenza dei marzicani nelle istituzioni. La centrodestra del capoluogo scalpita e chiede che venga rispettato l'impegno già inserito nell'agenda politica. Non è un problema di natura personale, esiste invece un problema per quello che riguarda il riequilibrio territoriale. Poi a prescindere da chi sarà, questo è credo non solo la necessità di onorare un accordo che è stato preso, ma anche e soprattutto la volontà che deve essere manifestata in modo esplicito da parte di chi in questo momento sta governando la regione, di riconoscere anche e soprattutto dopo il 6 aprile all'Aquila la possibilità attraverso un rappresentante in giunta di partecipare a tutti quanti quelli che sono i processi di ricostruzione delle città e le scelte che si debbono fare. È un momento di ringraziamento a quanti hanno contribuito alla vittoria elettorale, ha detto Giuliante ieri sera a Capestrano all'incontro promosso dall'Associazione Politico-Culturale Lorenzo Natali dal tema La politica sul territorio, siamo sulla strada giusta, l'incontro organizzato dall'anima democristiana del PDL che non fa sconti alla propria classe dirigente. Quello che sta succedendo anche a livello nazionale ha sicuramente come conseguenza la fine di un modo di organizzarsi all'interno del partito, vale a dire per quote. Noi riteniamo invece che dentro il partito la classe dirigente si forma in base al consenso e alle capacità. Si vede un PDL che vacilla ancora su base organizzativa e territoriale, non c'è ancora un partito radicato, ma questo è un fatto nazionale, anche le dinamiche recenti in qualche modo condizionano i lavori anche sul territorio, quindi c'è un partito che all'Aquila ma anche in provincia ha ancora organi da poco costituiti che elaborano molta poca politica sul territorio.